cosa fare se vi avanzano degli spinaci già bolliti della ricotta che sta per scadere della mozzarella già preparata tagliata per la pizza ma che avanzata del prosciutto cotto a dadini e una sfoglia faremo una ricetta stupenda che sono sicura vi piacerà tantissimo per prima cosa amalgamiamo la ricotta agli spinaci che ho tagliuzzato un po meglio con la forbice stendiamo in modo omogeneo su tutta la superficie della sfoglia aiutandovi con una forchetta così quindi aggiungiamo la mozzarella e il prosciutto cotto adesso arrotoliamo su se stessa la nostra sfoglia la arrotolo dalla parte più lunga diciamo anche se è un cerchio ecco qua aiutatevi con la pasta sfoglia aiutatevi con la carta ma poi mollatela e arrotolate voilà bene chiudete i bordi così chiudete l'altro bordo così e allungatela un po con le manine sante in modo che sia un po più lunghetta chiudete bene ma tanto non importa perché tanto la vedrete come l'utilizzeremo ecco qua potete benissimo allungarla con le manine tanto è bella cicciosa adesso appena ha raggiunto la forma desiderata possiamo chiudere e fare la nostra ciambella ecco fate aderire bene i due bordi così ma non abbiamo ancora finito adesso la metterò in una teglia e vedrete come la renderò graziosa ci provo ho trasferito la mia ciambella sulla teglia ma non abbiamo ancora finito adesso apporterò dei tagli in modo tale che possa venire quasi come una corona adesso spennelliamo con tuorlo e ovviamente non poteva mancare il sesamo andiamo in forno 180 gradi per 30 35 minuti da controllare vado ok 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 Buon appetito! Grazie a tutti.